Mi ricordo che parlando in giro con un altro team mi chiedevano gente che correva comunque ma tu sul bagnato come te la cavi quella stagione lì? E io bene, perché dai non ti sei mai visto nelle gare sul bagnato davanti? Ne abbiamo fatta una, partivo dai box perché eravamo stati penalizzati per i motori che avevano rotto i motori, insomma vabbè storia lunga, partivo dai box e in 12 giri di gara dai box con la penalità 42esimo sono arrivato sesto, cioè come fai a non saperlo? Però sei arrivato a sesto. Cioè nella scelta dei piloti uno dovrebbe conoscere esattamente, cioè ti vai a vedere tutti i risultati cosa ha fatto e sai chi hai di fronte invece vedevo che c'era molto così, molto pressa pochismo, no? Però ovviamente non è per tutti così, si vede che sono stato in quel caso specifico lì, mi sono trovato in questa situazione qua, però insomma un po' strano. Quindi poi l'anno successivo ancora con stesso team? No, l'anno successivo è stato forse il primo anno dove siamo riusciti a recuperare qualcosina in più, perché ovviamente sponsor sempre, io ho avuto la fortuna di avere sempre gli stessi dai quando ho iniziato a correre, però non trovarne tanti nuovi negli anni e invece quella stagione lì era subentrato uno sponsorino abbastanza grande e avevamo fatto l'Europeo con Aprilia, abbiamo fatto l'Europeo con Aprilia e insomma dai. Aprilia clienti o Aprilia ufficiale? 9M2, quindi ufficiale? Sì, che però anche lì ci sono un po' ufficiale a volte, non sempre, però da quel momento lì insomma siamo, ho cominciato a guidare a correre in team molto più attrezzati, molto più attrezzati e infatti da quel momento lì, nonostante io sia stato sempre tra i primi 5-6, in 600 così, ma da quel momento lì in poi probabilmente sono anche da fuori, hanno cominciato a vedermi come uno forte, mentre prima solo io mi vedo forte, probabilmente perché ho cominciato a guidare a moto bene. Ma nel tuo percorso hai avuto poi qualcuno che ti ha fatto come si usa adesso da coach o la tua crescita da pilota è sempre stata diciamo autonoma, cioè da autodidatta? Sempre con l'aiuto dei tecnici, tuo padre sarà arrivato fino a un certo punto, poi immagino che... Non è che mette tanto becco nelle cose, guarda, vede che sia tutto posto, se deve dire dice qualcosa ma dice veramente poco, ma all'inizio ovviamente diceva di più, quindi si può dire che il mio coach è stato lui, all'inizio carriera soprattutto, però no, è una cosa che va più adesso ed è giusto secondo me, all'epoca non andava. Adesso riduci i tempi di apprendimento sostanzialmente. A qualsiasi livello se ti affidi a uno che ci è già passato, sia che tu, nel nostro caso, no? O che sia un ragazzino che vuol crescere, vuol fare il pilota, se si affida a una persona che ha esperienza, intanto ti sa indirizzare, intanto ti sa guidare nel paddock, che insomma non è che sia sempre semplice, soprattutto per uno che non è dell'ambiente, capire cosa è meglio fare per il figlio e dove portarlo a correre, insomma quale carriera fagli fare e poi anche come abilità di guida sicuramente se sei seguito da uno che ti sa dire che qui prova a fare questo, prova a fare quell'altro, fai quell'esercizio, forse un po' più facile. Fino adesso mi sembra di capire che quello che ti è mancato di più è stato avere qualcuno che ti potessi inserire in determinati team a determinati budget, giusto? Perché il tuo ce l'avresti messo. Sì, poi ovvio, è facile dire ok, se fossi stato lì avrei vinto il mondiale, non si può dire, nessuno lo può dire, non lo dico. Con l'apriglia cosa non ha funzionato? Mi sembra di capire che qualcosa... In realtà il primo anno è stata una buona stagione, dove mi aspettavo un po' di più, però insomma è stata una stagione normale, dove non sono venuti i podi, però ero sempre ancora lì tra le prime posizioni. Sempre nella top five, l'ottavi, per quelle posizioni. Sì, sono state due o tre gare dove potevo fare veramente bene e tipo Imole avevo il record della pista all'epoca e però sono state molte sfortune, perché anche questo c'è da dire che la mia carriera nei momenti clou tante sfighe, tante sfighe. Tipo cadute, rotture, quelle cose lì, oppure situazioni spiacevoli. Più che errori, sfighe, quindi proprio tipo quando ero con Kawasaki nella 600 nell'europeo, continue rotture, non tanto quando ero quinto e sarei arrivato quinto, ma quando potevo vincere, bruciata la frizione, per la stagione lì si era bruciata la frizione, in gara sei volte. Trovami un'altra situazione dove è successo questo. Oppure la storia della gomma difettosa nella Moto2 a Valencia, quello che dicevamo prima, prima, oppure nel 2017 con Aprilia a Imola, davo fortissimo, che prima partenza partiamo, tre giri, io e Rinaldi scappiamo via, avevamo andato già due secondi al gruppo, seconda partenza uguale, terza partenza perché ci sono state ben due bandiere rosse, quindi tre ripartenze, frizione andata. Esatto, frizione andata, ma sono partito lo stesso, non con lo spunto degli altri giri, ma anzi che partire lì davanti, ero un po' più indietro, esattamente all'inizio c'era un po' meno accelerazione e quando sono arrivata alla variante alta, io non so bene perché, ma quella gara lì avevo un inserimento che era veramente troppo e ne ero consapevole perché ovviamente lo vedevo e mi ricordo che avevo un altro davanti, però avevo del margine, sono entrato comunque troppo forte, gli sono arrivato sotto lì e per evitarlo ho allargato un po' la traiettoria e mi si è chiusa, quindi sono caduto, però due cadute, due bandiere rosse, cado io, tra l'altro rimanendo in mezzo alla pista, gara continua e vabbè, quindi non ho potuto concretizzare quello che di buono si era fatto in quel momento. C'era un'idea europeo che era in concomitanza con il mondiale, alcune tappe, non c'è mai stato anche solo un interessamento di nessun team ufficiale, quantomeno per farti provare la moto e vedere come va e poi si parlava di soldi, no, non c'è stato perché intanto eravamo in tanti ad andare forte nella stock e poi io a parte con Aprilia non ero nei team principali, poi in realtà io la stock l'ho fatta tre anni perché è durata tre anni nel momento in cui sono passato alla 1000 e praticamente il primo anno con BMW, io ero con Antonellini però era appena arrivato, il secondo anno con Aprilia no, in realtà non ci sono stati interessamenti, ho continuato anche l'anno successivo con Aprilia ma poi nel 2018 già la stock si sapeva già che era l'ultimo anno che l'avrebbero fatta ed eravamo molti meno, molti di meno. Gli anni prima era una categoria speciale, piena di ragazzi veramente forti che chi più chi meno però tutti hanno fatto la loro carriera e già nel 2018 c'era molta meno gente, tant'è che da 40 iscritti siamo passati ad averne 18, una roba del genere. Tu hai corso comunque con gente che adesso è al mondiale e ha avuto quell'opportunità lì, ma quell'opportunità lì se l'è creata solo perché sapevano che avevano un portafoglio che si potevano permettere la stagione, oppure sono le conoscenze che erano un po' più inseriti magari con l'aiuto dei manager o perché comunque mi hai detto di nomi che eri lì che ti battagliavi che adesso sono là. Facciamo l'esempio di Rinaldi, Rinaldi all'epoca adesso corre superbike, all'epoca era nel junior team Aruba a Ducati, quindi la carriera ce l'aveva bene indirizzata, quindi se sei nelle situazioni, nei team giusti già… Ma tu per arrivare al team Aruba in quell'anno lì ti mancavano i soldi? Se ne era parlato all'inizio stagione, all'inizio stagione c'era la possibilità di scegliere tra Ducati Aruba e il nuovo M2 Aprilia e di là Rinaldi era già sicuro di esserci, sembrava che cercassero il secondo pilota e anche lì non ce n'erano tanti nella rosa dei possibili nomi, io ero tra quelli, due o tre nomi io ero tra quelli e quell'anno lì ci andò Jones che adesso corre nel campionato australiano e che era un po' seguito da Bayliss, quindi insomma è un po' più facile, altra garanzia diciamo, un po' più peso Bayliss e Ducati insomma, però io non ero caduto male perché ero comunque in Aprilia, va bene, a far bene di là c'è il canale preferenziale, poi è chiaro che non è tutto, cioè io non voglio fare troppo ok hai soldi corri, non hai soldi non corri, è inutile negare che sia così per la maggior parte dei casi perché di piloti forti, io ne ho visti tanti anche nella mia carriera però molti si sono fermati perché appunto ho finito il budget, ero forti, però non è l'unica soluzione, cioè se ti trovi anche nel momento giusto, nel posto giusto, con l'età giusta e poi sfrutti l'occasione, hai delle possibilità, hai delle possibilità di crescere. Quindi finita la stock, il CIV è stata una scelta obbligata perché o CIV o Mondiale, ma... Sì, Mondiale non era possibile o meglio, era anche possibile perché qualche team di secondo piano si era anche provato a informare, ricordando bene l'esperienza del Mondiale GP non aveva senso e non ho neanche minimamente preso in considerazione perché io mi voglio divertire di andare a fare il Mondiale Superbike perché sei là, perché dici oh io faccio il Mondiale Superbike, cosa serve? Per far cosa? Cioè io voglio andare le gare e poter far bene e quindi sono continuato nel CIV e sono ormai dal 2018 che faccio il CIV Superbike, quindi sono anche un po' di anni, i risultati però arrivano da lì... Sei pilota a tempo pieno? Cosa significa? Significa è il tuo lavoro? Ti mantieni con questo? Cioè come fai a mantenerti con questo? Io quando lo sai cosa faccio? Faccio i corsi di guida, faccio anche altro... Ti sei creato questa alternativa. Sì, qualcosa da stare sempre in questo ambiente però sì, perché piloti a tempo pieno è difficile, al nostro livello è difficile. Uno si può provare, puoi fare il pilota a tempo pieno però, cioè, a parte che le gare sono poche, perché se fai l'italiano sono sei gare a tempo pieno, il resto del tempo cosa fai? Cioè stai a casa sul divano. Quindi la tua attività principale nel senso com'è? È il coach? Fai i corsi di guida? Sicuramente è quella che almeno per l'anno scorso mi ha occupato più tempo in assoluto. E' ovvio che poi quando sono a casa comunque è tutto legato lì. Se fino all'anno scorso avevo anche l'università, adesso quella ormai l'ho accantonata. Ce l'hai fatta. Si sei laureato in? Economia. E quella ormai è il discorso passato. In questo momento questo. In questo periodo qua dell'anno, infatti mi trovo molto spaesato in questo momento perché è il primo anno che non ho niente da fare e insomma non è che sia proprio un passato da fare, da tirare tutta l'estate e non solo perché da metà marzo fino a inizio novembre, tirare, 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 tutti i giorni quasi, ad adesso che dico adesso che cazzo faccio. Ti alleni? Com'è che ti alleni? Adesso mi sto allenando, adesso mi sto allenando e perché l'obiettivo della prossima stagione è quello di fare molto bene, molto bene, siamo tutti molto carichi e come mi alleno? Io vorrei uscire, andare a correre, a fare qualcosa, piove sempre, è un mese che piove tutti i giorni. Avevo comprato i rulli da bicicletta e mi sono messo lì sopra, tutti i giorni sono lì sopra. Controlla perché c'è la gara? Io ho la fortuna che a me bere non piace, non mi piace e bevo solo la birra quando sono stanco, quando ho fatto sport, se no anche la birra non è che mi faccio pazzire, però nel paddock... Dopo la gara, sabato, qualifiche, la sera? Sì, si fa e quest'anno, tipo durante i corsi di guida, sai quante volte si andava in pista a fine giornata aperitivo con i corsisti, lì ovviamente dopo una giornata di corsi, col caldo, andava giù bene la birra, se ne bevano. L'idea dei corsi ti è venuta perché hai visto che c'era la possibilità, immagino, e sei riuscito subito a crearti un tuo, diciamo, business intorno o hai avuto un po' di difficoltà all'inizio? È stato tutto molto... Cioè è nato da te oppure qualcuno te l'ha chiesto e quindi è nato da lì? Allora io ho cominciato nel 2014 a fare i corsi, non li facevo per conto mio, nel senso c'erano dei ragazzi, dei russi, che andavano in pista ma andavano tanto in pista, cioè una quantità di giornate incredibile e avevano formato un team di persone di altissimo livello, perché tutta gente che adesso lavora, chi in moto 2, chi fa l'ingegnere molto bravo, nei superbike, insomma nei vari campionati e tutta gente che adesso lavora in team veri e avevano formato questo team che gli gestiva le moto e volevano andare sempre a girare con un coach che gli aiutasse che gli facesse da apri pista così e provarono un po' di piloti, anche buoni, poi una volta ne mancava uno, mi chiamarono me, siamo diventati amici, si sono trovati bene e da lì sono sempre andato io, quella stagione lì. Poi dopo loro si sono un po' fermati e io mi sono fermato anch'io, perché all'epoca non c'era tanto l'idea, anche se io un po' l'idea l'ho sempre avuta, ma moto non ne avevo, infatti io allenamenti a casa non ne facevo perché moto non ne avevo e finché mi chiamò Pedersoli per andare su a lavorare alla riding school, ho fatto 6-7 giornate là, poi ho detto 6 cose, mi faccio da solo, sprovo, ho preso la moto, adesso l'ho spostato tutto, ma di solito è parcheggiata qui, ho preso la moto con cui correvo, con cui avevo finito la stagione, BMW e con quella sono partito. E quando sono partito, è stato l'anno del Covid, quindi all'inizio ho detto proprio adesso, ho fatto l'investimento, ho preso la moto, ho preso il camion, tutto quello che mi serve, però non si partiva, non si partiva, poi a un certo punto sono partito e da lì, sono tre anni in realtà che lo faccio, insomma, ma così. E soddisfazioni anche da questa attività? Sì, sì. Ti piace? Mi piace molto, ma soprattutto, cioè, nascono tante belle cose, tipo tra di noi, no? Cioè, vero o male... Sì, è nato per caso, adesso siamo qui. Esatto, ma poi anche con altri ragazzi, cioè, è nata proprio un'amicizia vera, ci sentiamo quasi tutti i giorni, si è formato proprio un bel gruppo, vengono a vedere sempre le mie gare, ci si vede, cioè, è proprio bello. E in particolar modo, cioè, quello che non ho mai avuto nella mia carriera, che è un manager, mai avuto, o qualcuno che mi aiutasse a trovare magari lo sponsorino per fare il passo in avanti, che in realtà era mio babbo, ma il tempo non ce n'era e comunque bisogna anche essere un po' portati, insomma, facciamo un po' fatica. E in realtà, tipo, che ho conosciuto Stefano facendo i corsi e, cioè, è diventato il mio manager, praticamente. Cioè, è diventato prima il mio sponsor. E poi il manager. E poi il manager che, infatti, cioè, praticamente è diventato la sua prima... La parlantina ce l'ha per trovarti... Hai conosciuto te, Stefano? Sì, sì, sì. Eh, ce l'ha la parlantina, porca miseria. Stefano, Diego, cioè, tutti i ragazzi che ho conosciuto con i corsi, e poi... Che adesso sono messi in testa e che mi devono aiutare e quindi lo stanno facendo, infatti è fantastico. Bene, bene. Quindi, a parte le gare, ti alleni in moto e a parte i corsi, che sei in moto, però, ovviamente, non lo consideriamo come allenamento perché, sì, stai in moto, però, diciamo che non vai sempre... Meglio che stare sul divano, quindi... Meglio di niente, però... Tu allenamenti in moto, cioè, com'è che organizzi l'anno di allenamento? Adesso, vabbè, ovviamente, a stagione invernale, rulli, bici o comunque palestra, riesci ad andare in moto spesso, a parte i corsi, oppure la tocchi poco? Mai. A parte i corsi, durante la sozione, mai perché non ho tempo. Non c'è... Quindi se hai la giornata e puoi fare i corsi, ovviamente preferirei fare i corsi, immagino, piuttosto che andare. Sì, sì, sì. No, non succede che dicono oggi... No, perché devo andare a girare per conto mio. E questa cosa qua, secondo te, ti svantaggia tanto rispetto ai tuoi avversari del CIV di adesso? Di fare i corsi? Sì. No. No. No, 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 è un'altra cosa. Cioè, sono lì a fare i corsi, ok, devo andare con un altro ritmo, vado per un'altra motivazione. Cioè, la tua testa riesce a dividere il modo di guidare, di fare i corsi da... Anzi, anzi, se io e te domani andiamo a Misano a fare una giornata di corsi dove, sì, si guida abbastanza bene, ma non è che si fa tempi straordinari. Certo. E poi, dopo domani, io devo fare un test con la squadra, ho già la pista bene in mente, perché ci ho girato il giorno prima, anche se piano, per il mio standard, però ho già la pista bene in mente. Non rieschi di rovinarti i riferimenti? No. I riferimenti sono lì. Sei bravo nel riuscire, quindi a ricordarti tutto. Sì, guarda, alla fine la cosa che ho notato che può essere uno svantaggio, e lo è stato, è stato che comunque fare i corsi dipende come li fai poi. Io quando organizzo una giornata, soltanto in pista, e quindi arrivo a casa che sono tanto stanco, perché parto la mattina, torno la sera, e soltanto stanco. E anche il corpo ne risente, fisicamente ne risente, infatti io quest'anno ho avuto dei problemi che non ho mai avuto, tipo ho avuto problemi prima alla spalla sinistra, poi alla spalla destra, ho dovuto fare delle punture, delle infiltrazioni perché non funzionava più. Ma che stai semplicemente invecchiando? Spero di no. Però vedo che, cioè, tanto è usurante per il fisico, e quindi... Stare tanto in moto. Eh sì, un po', sì. Quindi un po' ne ho risentito, e può essere quello lo svantaggio. Non è il fatto di andare magari più piano di quello che potresti, perché poi sono due cose separate. Tant'è che quest'anno io quando arrivavo in pista, qualunque pista, il primo turno era sempre molto veloce. Una cosa che rende gli amatori e i piloti uguali è l'asfalto. Quando si cade l'asfalto è duro per tutti, è duro per me, è duro per te. Io ci ho lasciato un piede, un gomito, un ginocchio e un braccio. È un bel lavoro, dai. Ok. Come siamo messi a ossa? Intanto il dito. Un dito. Adesso, insomma, non è proprio dritto. Ho provato in un test con la moto E a Geref. Hai provato la moto E in che anno? Nel 2018, fine 2018. Anche lì, per dire, è stato un altro momento in cui si poteva fare, ma in quel caso lì sono caduto, errore mio, non si è fatto perché mi sono fatto male. Io mi sono fatto male, sono stato fermo cinque mesi con i ferri nella mano, tre operazioni, è stata una roba grossa. Poi torniamo agli infortuni. Il discorso moto E perché hai valutato, perché è un contenitore comunque del mondiale, quindi può essere una vetrina o è una curiosità sul tipo di robità? Io quell'anno lì era andato molto forte. Ho fatto cinque podi e l'ultima gara a Vallelunga, ho fatto una gara bellissima contro Pirro, dove ci siamo battagliati dall'inizio alla fine. Era stata vista, era stata notata quella gara. L'ultima, è sempre molto importante fare l'ultima gara bene perché è quella che si ricordano tutti. Quindi l'ultima bisogna far bene. Era un momento in cui il mio nome era un nome caldo, se c'erano delle possibilità, quantomeno venivo considerato. E successe che il team Simoncelli doveva fare dei test con il suo pilota che era Casa Dei, ma Casa Dei si era appena operato a Lanca perché aveva avuto un problema, adesso non mi ricordo bene cosa gli fosse successo. E andai io a sostituirlo, fu una possibilità. Io ero molto carico, mi sentivo molto forte e era una delle poche possibilità che avevo di mettermi in mostra contro piloti veri, che avevano un nome oltre al talento. E quindi io volevo andare forte, fin da subito. Quindi la motivazione della Moto E immagino che sia anche attuale. Non c'era l'idea di andare a correre la Moto E, sembrava che non ci fosse neanche la possibilità perché le squadre erano già formate, ma se in un test Moto E arrivo io e mi metto dietro tanti piloti che magari, c'era Smith all'epoca che correva la MotoGP, c'era gente che aveva corso la settimana prima lì a Gere, a Valencia. E quindi io volevo stare davanti fin da subito e l'ho pagata, perché mi sono fatto male. E sei rimasto fermo? Ah, tutto l'inverno. Sono ritornato accelerando i tempi, togliendo gli ultimi ferri dalla mano la settimana prima della gara del Cid. Dell'anno dopo. Altre ossa che ci hai lasciato giù? La schiena. Ho fatto una bella caduta davvero ad Assen. Ci sono delle foto toste. Highside? C'è lì anche il video su YouTube, basta scrivere Marino Leg, l'altro pilota era Marino, perché lui cade davanti a me. Siamo in qualifica, stiamo facendo il tempo, io tra l'altro ho tre caschi rossi. Stock 1000 europeo. Stock 1000, sì, nel 2016. Cade e praticamente fa una caduta strana dove gli parte, la moto continua ad andare e lui rimane lino. E io stavo arrivando dietro, era la penultima curva di Assen che è molto veloce. E io me lo trovo davanti, ma me lo trovo davanti qui, che se lo prendo qui, facciamo una strage. E si vede, proprio c'è il video, la ripresa, che si vede che io all'ultimo rialzo la moto e appena prima di colpirlo qui, che gli avrei fatto male, vero, faccio questo, faccio questo e riesco a spostarmi verso le gambe. E gli ho preso le gambe, dopo io ricordo che, cioè il ricordo che ho di quella caduta è che io ho fatto di tutto per evitarlo, almeno gli ho evitato le parti vitali, insomma, e nel momento in cui l'ho preso è come se io avessi fatto il mio. In quel momento mi sono lasciato andare, no? E infatti la caduta in sé non me la ricordo, anche perché ho preso una botta che... La idea è che velocità si fa con la curva di sopra i 200. Ah, sei in terza ad alti giri, quindi tanto forte. E praticamente lui si ruppe la gamba, ha fatto il video Marino Leg, perché si ruppe la gamba in varie parti, insomma, a un certo punto se l'era messa quasi per sciarpa, quindi è una cosa anche poco bella. E io invece, non si vede dalla ripresa, ma ho cominciato a rotolare testa a piedi, testa a piedi, testa a piedi, e però ci sono delle foto della caduta, c'è tutta la sequenza, e ci sono delle foto che era tutto fango, fuori, ci sono delle foto che io sono così, con la testa giù, sul fango, i piedi per aria, e io avevo l'airbag, erano i primi anni dell'airbag, i primi anni che andavo un po' a tutti, e secondo me è stata la fortuna, perché quello lì potrebbe essere veramente... E poi è la stessa curva dove anche Lorenzo ci ha lasciato la schiena, no? Il MotoGP, ad Assen, con la Honda. Eh sì, può darsi, può darsi. Se non sbaglio. Probabile, sì, sì, è vero. E praticamente dopo io, lì, anche lì, storia assurda, perché tanto, il casco, dalla botta, dalla deformazione che aveva preso, qua, si ruppe qui. Ah, come la mentoniera? Sì, qua, c'era delle crepe qua, perché l'ha ceduto proprio, ha dato una botta incredibile. Io tutto pesto in faccia, tutto pesto, e praticamente io lì mi ruppi due vertebre e quattro compresse. Con le alte, immagino, perché... Dorsali, qui. Qua in mezzo. E questo era sabato. La domenica io feci la gara, però. Ma perché? Perché mi portarono, prima al centro medico del circuito, mi fecero una lastra e non hanno visto frate che copriva, dai, lede ma coprivano, non hanno visto niente. Poi mi portarono in ospedale ad Assen per farmi una risonanza. E non me l'hanno fatta la risonanza, mi hanno rifatto la lastra. Tra l'altro mettendomi in piedi, che io non ce la facevo a stare piedi, ero seduto. Eh, cazzo, mi tenevano in piedi così, e io, oh, ragazzi, c'ho male. Vabbè, niente di rotto, sono grande botta. Va bene, allora... Corro. Corriamo, cosa devo fare? Sono tornato in circuito, sono andato alla clinica mobile, e mi sono seduto, mi hanno dato un po' di antidolorifici... Ma ti hanno dato il fit, nonostante... Certo. Mi hanno dato degli antidolorifici e mi hanno detto, Guarda, Luca, se degli esami non risulta niente di rotto, quindi noi ti sconsigliamo di correre, perché la botta l'hai avuta, però se non c'è niente di rotto, cosa devo fare? Perché non dovrei correre? Antidolorifici, antidolorifici, il giorno dopo corso. Non avevo tempo in qualifica, ne avevo fatto solo un giro sull'umido, perché stava sgocciolando e partivo trentacinquesimo. Anzi, no, avevo solo il primo giro, quello di uscita box, trentacinquesimo partivo. Sono arrivato undicesimo, quella gara, rischiando l'impossibile, perché la gara era partita bagnata, si stava asciugando, quindi c'era la scia, il piccolino, dove passare, dal trentacinquesimo all'undicesimo, ne avevo passati venti. Quindi, comunque, dei rischi mi li ero preso, e con due fratture nella schiena. Ma poi, ovviamente io, anche il periodo successivo, non lo sapevo che c'erano queste fratture. E quando è che sei tornato a casa, un male della Madonna, per un sacco di tempo. Avevo male, però dopo mi ero adeguato. Cioè, era una botta? Va bene. Allora, prima o poi passerà. Io, per camminare, tendevo tutti i muscoli così, tutto tinco, e camminavo. E bene o male, mi facevo un busto da solo, non me lo facevo io. Ma poi, ovviamente, in quel periodo lì facevo di tutto. Sono andato a giocare a calcio, sono andato a giocare a baseball con i miei amici, mai successo in tutta la vita, però giocavo. Sono andato al ranch, con la moto da flat, doppio high side, roba che rimangavo lì. Sono andato dal chiropratico, perché mi faceva male la schiena. Però era una botta, no? Mi ha scrocchiato la schiena. Ma ti rendi conto? E quindi, tutto quello che non devo fare, l'ho fatto. Quanto tempo passa prima di scoprire? Qua mesi? Io avevo male alle anche. La schiena mi faceva male, però, vabbè, prima o poi passerà. Avevo male alle anche, non capivo che cazzo era. Non avevo mai avuto questo male alle anche. Non riuscivo neanche a sedire sulla moto. Devo tirare su la gamba, devo tirarla su e farla passare di là, perché non ce la facevo. E, ovviamente, i miei mi dicevano, vatti a far vedere, vatti a far vedere. E ho detto, no, è una botta, niente. Finché, un mese e mezzo dopo, nel frattempo c'è stata la gara di Imola, dove sono arrivato sesto, anche lì, strano, a un certo punto, prima della gara avevo vomitato, cose che non mi sono mai successe, però si vede che qualcosa nel corpo c'era. E la gara dopo, a Donnington, dopo un mese e mezzo, vado in clinica mobile, mi provo a manipolare un po', e mi fa, non è normale che tu abbia ancora male qua, controlliamo un attimino, e si sono accorti che qualcosa che non andava c'era. Allora, ho fatto il primo turno a Donnington, e vado in clinica mobile, e loro dicono, vai in ospedale, devi andare in ospedale, farti fare una risonanza. Sono andato in ospedale, e avevo appuntamento, tipo un appuntamento, il pomeriggio, quindi sono arrivato correndo, arrivato in ospedale, e mi ha messo sulla barella, legato, perché il procedimento era quello, io diventavo matto, dicevo, cazzo, sono venuto qua correndo, cosa mi metti sulla barella? Cioè, cosa vuol dire? E finché hanno fatto la risonanza, e mi ha detto, guarda, qui hai avuto 5 compressioni, e due fratture, e ormai è passato un mese e mezzo, cosa possiamo fare? Ormai quello che potevi fare, che avresti dovuto fare, non l'hai già fatto, quindi indietro non si torna, e vabbè, sono tornato in circuito, e non mi ha dato l'ok percorrere, anzi, non mi volevano dare l'ok percorrere, io ovviamente gli ho detto, ascoltate, mi avete fatto correre due gare di prima, mi fate saltare questa, ma state scherzando? Ah di, hai ragione, allora provo a fare un po' di prove, salti, balzi, flessioni, ho fatto tutto, ho detto tutto bene, per il tempo di fastidio ce l'avevo, e poi mi hanno detto, va bene, noi ti diamo l'ok percorrere, ma mi raccomando, non fare guai, cioè, stai attento, benissimo, tre giri, e perdo l'anteriore ad onniton, destra in discesa, sinistra veloce, sempre in discesa, che vai in quarta, ad altri giri, caduto lì, ho fatto una botta, la moto si è incendiata, e non mi hanno fatto correre, poi alla fine, se li ascoltavo prima, risparmiavamo la moto almeno, però lei. Quando ti dicono, stai attento a non farlo, prossima volta, non entrare, stai calmo, stai nel box, non si può dire così, non si può dire così, perché sicuramente succede qualcosa, 100%, finito qua, o altri? No, avevo un dito del piede, ma in scooter per strada, per passare una, che ha fatto inversione, una botta anche lì, no, basta, basta, rotture, quelle lì, lasciamo stare, belle toste, poche ma toste, andiamo avanti, andiamo avanti, quindi, ultimi anni, ultimi quattro anni, nel CIV, quest'anno, la prima vittoria, e, forse cos'è, per secondo anno, stesso team, stessa moto, successo raramente, mi sembra di capire nella tua storia, successo, con Aprilia forse, con Aprilia, con DMR, negli ultimi anni, sta succedendo più spesso, forse perché, finalmente, ho trovato, delle situazioni, un po' più, adesso con esperienza, quindi, quando c'è la scelta del team, per te adesso, conta di più il team, o la moto? Cioè, quando tu devi scegliere, tra due cose, il team, non è importante, le moto, non si equivalgono, ma possono andare, tutte abbastanza bene, poi è chiaro, se hai un top team, con una moto top, è meglio, ma, non è sempre facile, accedere a quei team, ma questo è dato, perché i regolamenti del CIV, degli ultimi anni, eliminano, eventuali problematiche, la base, perché, non ci sono, non c'è possibilità, di più di tanto, di metterci mano, rispetto, oppure, le moto sono stock, quindi, le moto sono quelle, non è che puoi fare, delle evoluzioni, puoi lavorare sulle sospensioni, puoi lavorare sul motore, ma non puoi lavorare sulla moto, quindi dai precedenza, al team, come ti trovi, molto più importante il team, sì, molto più importante il team, perché, bisogna soprattutto, lavorare bene, bisogna soprattutto, che ci sia la voglia, di far bene, e, non è scontato, per niente, molto, molto complicato, e, è sempre per il discorso, per prima cosa, il team deve far quadrare i conti, e io, adesso, negli ultimi stagioni, ho trovato sempre team, molto validi, a partire da DMR, che, con cui, mi sono trovato molto bene, con Guandalini, ho corso nel 2020, con BMW, anche lì, ho fatto degli ottimi risultati, cioè, la moto andava proprio bene, e, e adesso, con Honda, ho trovato un team, molto, tanto li hai conosciuti, non è, da fuori, non sembra, cioè, come dire, dall'altra parte, ci sono team super professionali, tutti perfetti, noi siamo un po' più, così, alla buona, ma, il livello è molto, molto alto, cioè, Alessandro è bravissimo, tutta la squadra, sono, i meccanici, sono bravissimi, ma poi si sta bene, cioè, noi quando siamo in gara, siamo bene, la cosa principale, uno quando va alle gare, si deve divertire, se vai là e cominci a dire, però, devo vedere lui, devo stare lì, e pesa, è un problema, anche nei risultati, invece, noi lì arriviamo, siamo diventati un gruppo di amici, tutti con l'obiettivo, e con la sconsepevolezza, che si può fare molto bene. E le ultime scelte del campionato, del Cive, di dare questo indirizzo, come le giudichi? i regolamenti, a Imola ne abbiamo parlato un po', diciamo, moto stock, però elettronica, uguale per tutti, bene o male, motore libero, però ciclistica... Forse sul motore, metterei dei limiti, perché fare il motore libero, può portare ai costi molto in alto. Allora, se fai, molti dicono, la cosa migliore è fare tutto stock, non è vero. Se fai tutto stock, vince solo Ducati, diventa monomarca, perché se una moto costa 40-45 mila, adesso non so cosa costa, 40 mila, e le altre costano 20, e le altre costano 28, cioè, non sarà solo il nome che fa la differenza, e non è solo il nome, quindi tutto stock non si può fare, è molto semplicistico come cosa. Il fatto della centralina unica ha aiutato tanto, perché erano tutti contro, non si sa bene per quale motivo, ma erano tutti contro, invece io ho sempre detto, si facciamo la centralina unica, anzi mettiamo zero controlli, così veramente non c'è possibilità di sviluppo, ma almeno pareggi molto i livelli delle moto, dei piloti, si vede chi guida la moto, chi la sa guidare, hanno fatto la centralina unica con i controlli, limitati, e secondo me è un'ottima soluzione, quella è un'ottima soluzione, e ti limita ad altre parti, perché dici, oh io voglio fare il CIV per poi andare nella superbike, è ovvio che non è, cioè non è un campionato formativo, perché non lavori su cose che invece di là sono fondamentali, ma, però noi siamo il CIV, non siamo la superbike, e la possibilità di andare in superbike, se ne hanno forse due piloti. Quindi tu non vedi il CIV come un trampolino di lancio per il mondiale? Allora, io il CIV potrebbe essere, benissimo il punto di arrivo di, soprattutto la superbike, di piloti che non hanno magari la possibilità, vista l'età, visto il budget, o visto il talento, perché è ovvio, di arrivare in superbike o di arrivare da altre parti, come è il BSB, il BSB è un punto d'arrivo per molti, per qualcuno è un punto di lancio, per la superbike, per altri è un punto d'arrivo, dove uno può avere una carriera lunga, nella superbike, nel BSB. Quasi però che tu stia parlando del National Trophy, che riempie le griglie, ci sono giovani, e anche piloti, diciamo, d'esperienza, che, come mai? è solo una questione di costi, e non credo che, vedo alcune moto del National, non costano meno. I costi nel National non sono più bassi, non so a livello di iscrizione, probabilmente sì, ma a livello di costi generali, non sono più bassi, non possono essere più bassi, perché la moto è più libera, quindi volendo io, nel National potrei correre come una superbike vera, quindi non possono essere più bassi, comunque le gomme ti servono, la benzina ti serve, quindi i costi non sono più bassi. Quello che secondo me fa la differenza spesso, è il fatto che, o in alcuni rari casi, uno o due piloti, si legano magari a una casa che nel CIV non c'è, come potrebbe essere BMW, che al momento non ha interesse nel sviluppare una moto, che funzioni con la Motec, quindi non c'è, ma sono rari casi, oppure nella maggior parte dei casi, perché il CIV superbike, visto come una cosa forse molto complicata, visto il livello, dove vince... Perché il tasso tecnico dei piloti è molto alto, siete 4-5 piloti almeno, che a livello altissimo, perché mi dicevi a Imola, quando sono venuti a fare delle wildcard, piloti del mondiale, con la moto del mondiale, alla fine non hanno fatto il vuoto, anzi, anzi, non hanno proprio vinto, a parte Maias, alla prima gara in assoluto, che abbiamo fatto con la centrillina nuova, che insomma era una novità per tutti, dove ha vinto, ma per il resto nel passato, mi ricordo Fore, non è uno che va piano, anzi, è uno che va forte, è venuto con la Superbike a Misano, non ha vinto. E quindi vuol dire che il tasso tecnico dei piloti è... C'è, è all'inizio. Allora, non siamo fenomeni... Oddio, andiamo forte secondo me, siamo tutti molto talentuosi, ma non siamo fenomeni assoluti, perché se no saremmo da altre parti, quindi su questo c'è... non voglio fare troppo il fenomeno. Però siamo diventati, quantomeno, specialisti in Italia. Delle piste a Mugello, Misano, Imola. Esatto, ed è normale, è come se... Continua a correre lì. Esatto, esatto. Però, probabilmente siamo specialisti molto forti, quello posso dirlo, perché comunque le nostre non è che sono piste fuori dal mondo, come quelle che ci sono nel BSB, dove vai a correre a Cadwell Park, ti ci vogliono tre anni per capire la pista, ma sono piste che bene o male tutti i piloti, forti e meno forti, hanno fatto nella loro vita, perché Misano e Mugello soprattutto ci hanno corso tutti, non è che arriva qualcuno anche da fuori che non conosce la pista. Però noi siamo specialisti, perché ci correvamo tutti gli anni, più volte all'anno, questo è negato, è negabile. Quindi, è un campionato che, all'ingresso, ha una barriera molto alta, rappresentata dal livello. Dal fatto che c'è Pirro, che alza l'asticella tantissimo, e dal fatto che ci sono una schiera di piloti dietro, che sono lì che non vedono l'ora di batterlo. Però, a fine la griglia è, come numero, quella con la griglia. Il problema, secondo me, è uno dei problemi, è anche questo, del fatto che il livello è talmente alto, che uno dice, oh, va bene anche il National. E come mai il numero 70? C'è un motivo particolare oppure? No, io ho iniziato che volevo correre col 7, ma non c'ero, quindi ho preso il 77. Poi sono passato nel mondiale, e non c'era, ho preso il 10, perché il 10 sembrava, forse sembrava che poteva essere, era un numero fortunato. Credo perché, tutte le volte che da ragazzino, correvo nel box, mi mettevo nel box 10, poi vincevo la gara, nella fase del genere. In realtà, poi, tutt'altro che fortunato, nella stagione, e dopo, quando sono tornato nella stock, nella 600, ero occupato, io comunque non lo volevo neanche più, e allora ho fatto una via di mezzo, 70, e poi è rimasto quello per sempre. Allora, questo è il mio casco, quello del botte del Mugello, come puoi vedere, e ormai è... Ho fatto un bel lavoro lì, è stato bravo. vorrei che tu potessi, fare un bel autografo, dove vuoi, ho due, due ogni posca, uno nero e uno oro, scegli tu, che colore usare, e dove. È il primo autografo, perché sarà il primo di una, di una grande serie, di personaggi che metteranno qui, la loro scritta, e... Devo scegliere un posto, bello visibile. Sono contento che... Dimmi dove, da che parte lo giri, nel salotto, così... Dove vuoi tu, ovviamente viene, dal davanti, dal davanti. La vita che farà lì sopra. E sono contento che tu sia il primo, perché sei il primo pilota, con cui ho avuto a che fare, il primo pilota vero, e quindi... E grazie a te ho fatto, quest'anno, nei miei migliori gari, l'ho fatto grazie a te a Misano, l'ho fatto il terzo posto, e quindi... Ah lì, il tuo consiglio, due secondi, aspetta un attimo, la migliore è stata a Mugello, dove partivi indietro. Io ho fatto dei sorpassi, hai fatto una gara eccezionale. Come tempi, Misano, due secondi, da un giorno all'altro, non sono scontati. E buona, ti siamo tolti delle soddisfazioni, poi alla fine però, c'è stato un piccolo calo, come mai? Adesso la domanda la faccio io, come mai? Come mai? Io è stato un partito bene l'anno, e la voglia sempre di fare di più, alzare l'asticella, alzare l'asticella, vado in un campo dove è tutto nuovo, a livello proprio di riferimenti, tempi, e l'errore, l'errore indietro l'angolo. Purtroppo... Tu lo saprai meglio sicuramente, quindi... Assimilato a questo, si riparte, no? Senza fare errori, con quell'esperienza lì, e... Poi, tutte le volte che arrivavi in circuito, ripartivi sempre da... Porca vuole, è una cosa, quest'anno ci dobbiamo... Come mai? Come mai? Non lo so, me lo devi dire tu, da coach, ci dobbiamo lavorare, perché... Ti ringrazio Luca, e... È un piacere. La stagione prossima, saremo ancora insieme. Musica ... Grazie per la visione!